Un saluto dal Tg della mobilità. Da oggi nuove potature su Corso Trieste tra Via Nomentana e Via Alessandria, divieto di sosta in entrambi i sensi di marcia H24 nel tratto interessato dei lavori e divieto di transito tra le 8 e le 17.30, possibili temporanee deviazioni anche per i bus. E all'Eur sino al 31 dicembre sono previsti lavori di rifacimento del manto stradale su un tratto di Viale Europa in Viale Boston, in Viale America da Viale Shakespeare a Viale dell'Arte e Piazzale dell'Agricoltura tra la Colombo e via Ciro il Grande, possibili rallentamenti per la viabilità pubblica e privata. E sino a giovedì 23 dicembre dalle 22 alle 6, domani notte dalle 23, proseguiranno i lavori di manutenzione all'interno della Galleria Giovanni XXIII, che in questa fase interessa il tunnel in direzione di via della Pineta Sacchetti. E' tutto appuntamento alla prossima edizione. E' tutto appuntamento alla prossima.